Per noi la couture fa parte della nostra memoria, è parte della memoria degli esseri italiani perché la couture è legata all'artigianalità, all'esecuzione, alle botteghe dell'arte del Quattrocento. È in qualche modo una tradizione tutta italiana che noi vorremmo perpetuare, vorremmo trasmettere perché siamo convinti che la memoria di questa couture è la chiave per la sfida del futuro del Made in Italy. Molto spesso in passato si è parlato molto di più della moto italiana più legata al pret-à-porter, meno della couture. Infatti con la nostra direzione creativa la prima cosa che abbiamo fatto è stata anche di organizzare dei tour per far vedere i nostri atelier ai giovani perché veramente credevamo che era un valore da comunicare, da far vedere all'esterno. La moda italiana è in dubbio che comunque nel passato è stata, ma anche oggi in alcuni casi, è stata legata più a una comunicazione di forti personalità stilistiche e meno si è comunicato questa artigianalità, questo mondo del fare. Questo senso della bottega, questo senso dell'atelier, del poso dove si crea qualcosa anche manualmente perché comunque la couture è il territorio della sperimentazione anche manuale, dell'artigianato, delle grandi mani. Assolutamente, è sicuramente un lusso ed è sicuramente anche un modo per sperimentare l'alta moda. Però veramente è importante non comprendere secondo noi del valore della moda italiana in genere questa capacità di legare l'idea anche alla realizzazione e alla qualità della realizzazione. Secondo noi la qualità della realizzazione rende più forte l'idea. Questo è stato il grande connubio che ha fatto sì anche secondo noi che ha reso forte la moda italiana nel mondo perché non era soltanto un'idea creativa e uno stile ma anche una perfetta esecuzione. Questo faceva la differenza e fa la differenza. E quindi il nostro atelier si è arricchito di dieci giovani. Non è così inusuale trovare nelle famiglie italiane persone che sanno anche fare manualmente. credo che è proprio nel DNA e poi unita a una forte passione perché comunque la passione fa la differenza. Una sorta di orgoglio di essere, di far parte di Valentino, di far parte di essere romani, di andare a Parigi a sfilare, di avere fatti a Roma. Ma questo viaggio in fondo si vuole raccontare in una maniera migliore. Per cui da parte di queste ragazze, che saranno sempre ragazze tutta la vita, c'è questo amore che loro ci mettono all'interno di qualsiasi punto che loro fanno. Perché loro ci sono dei tavoli dove sopra c'è i tavoli di lavoro molto gerarchici perché poi in realtà la Couture segue ancora le regole della bottega del latte. C'è il maestro, ci sono le altre ragazze intorno. E quindi c'è... E soltanto quando si arriva a Parigi, in fondo, gli abiti... Quando arriviamo a Parigi sulla passerella, gli abiti non appartengono di più a loro perché fino a che non stanno su una passerella addosso alla ragazza, loro stanno lì che li curano fino all'ultimo momento. E' bello questo senso di appartenenza, di vedere che in qualche modo li lasciano soltanto quando stanno a Parigi sulla passerella. Si sente l'amore delle persone per quello che fanno. Grazie.